Le sbarre che dividono il carcere dal mondo dei liberi funzionano in entrambi i sensi. Tengono i carcerati fuori dal mondo, ma tengono anche il mondo al di fuori di quella realtà. Quindi tutti gli strumenti fisici e culturali che riescono a far superare queste sbarre sono secondo me assolutamente fondamentali. Io ai ragazzi dico molto spesso che anche se il loro corpo, il loro essere fisico è carcerato, la loro mente deve essere libera. E questo sinceramente è un appello che mi sento di fare anche ai nostri spettatori, a chi ci guarderà. Entrare in carcere tramite queste esperienze è qualcosa che sicuramente serve ad ampliare i confini della nostra mente. Barri Aperte è una serie di otto episodi di meno di dieci minuti ciascuno. È un formato snello, veloce, adatto ai nostri tempi, adatto ai nostri formati, adatto anche agli smartphone. Ma io vi consiglio di non guardarlo sullo smartphone. Vi consiglio di sedervi, di godervi il suono, di godervi l'immagine perché ci abbiamo messo tanti mesi di lavoro e di impegno. Può piacervi, può non piacervi, di sicuro è qualcosa che non avete mai visto prima.